Cerimonia di consegna di 56 iPad agli alunni del plesso scolastico di Gallicano. In tutto sono 160 ragazzi che studiano con l'ausilio dei tablet acquistati dalla scuola con finanziamenti ricevuti da enti, associazioni, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Ministero e della Regione Toscana per le classi 2.0. Ospite d'onore il senatore Andrea Marcucci, presidente della settima commissione permanente per istruzione pubblica e beni culturali. Una bella giornata qui a Gallicano, si conferma l'impegno delle nostre istituzioni e dei nostri territori sulle scuole. Oltre all'impegno sulle infrastrutture, questa è una delle tante scuole che negli anni recenti è stata inaugurata, c'è anche un impegno didattico grazie alle fondazioni bancarie, alle banche locali, grazie alle istituzioni e a tutto il territorio. Oggi abbiamo dato qui ai ragazzi gli iPad, che è un importante supporto didattico, moderno, diciamo con un approccio che guarda al futuro. Credo che sulla scuola, senza dubbio, la Valle del Cerchio e la provincia di Lucca sono un buon esempio per tutto il paese. A spiegare l'utilità della tecnologia affiancata alla professionalità delle insegnanti, la dirigente scolastica Emanuela Giannini. Per noi, per l'Istituto Comprensione di Gallicano, il coronamento di un percorso iniziato tre anni fa. E' per noi un grosso traguardo, perché finalmente siamo riusciti a far avere uno strumento informatico all'avanguardia, che è l'iPad della Apple, per tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Questo strumento, che abbiamo sperimentato già da due anni, sta portando degli ottimi risultati dal punto di vista della metodologia didattica e della partecipazione attiva degli studenti alla vita della classe e anche uno sviluppo della motivazione e della partecipazione attiva davvero da parte di tutti. E' uno strumento che offre l'opportunità di sfruttare il web come mezzo di informazione a 360 gradi, ma con la cura e la guida dell'insegnante che educa i ragazzi a sfruttare le informazioni che vengono estrapolate da internet in maniera adeguata, con consapevolezza e per fini didattici utili per le attività che vengono svolte correntemente nelle classi.